Sono contento per il gol e per la vittoria della squadra, è stato importante sbloccare subito la partita perché così è andata in discesa, poi secondo tempo siamo calati un po' e abbiamo un po' sofferto, però alla fine nel complesso il risultato è buono, è una squadra con cui sono riuscito a fare due gol, una l'andata e un ritorno e speriamo di farne anche altri. È importante mantenere costanti punti perché quest'anno è un campionato difficile e ne puntiamo ovviamente al massimo e quindi arrivare fino in fondo.